Ed è un immenso piacere avere qui oggi con noi su Deep Green una persona che da anni, da decenni, da decenni si occupa di tematiche ambientali si occupa di riforestare, ma non tanto riforestare così, piantando insomma alberi a caso ma facendo tutto uno studio molto molto oculato e particolare sulle specie del autoctone eccetera comunque non mi dilungo tantissimo perché poi adesso ce ne parlerà meglio lui ho il piacere di presentare Roberto Salustri, ciao Roberto ciao Gabriele che è anche il fondatore, il direttore di Reseda Onlus esatto, esatto di Reseda Onlus e dell'Ecoistituto Reseda Onlus Roberto, tu dicevo da decenni, giusto? Ma sono di più, cioè sono quanto? Allora, che lo faccio anche per lavoro è dal 2000 in realtà come volontario lo faccio dal 1979 quindi giustamente sono decenni sono quasi 30 anni e passa eh sì, eh sì cosa ti ha spinto inizialmente a fare, cioè a dedicarti insomma? ma sicuramente la passione per la natura soprattutto all'inizio quando ero ragazzo e poi anche dall'impegno civile di fare qualcosa per combattere i cambiamenti climatici e anche per difendere la biodiversità sia del mio territorio ma anche di altri territori dove poi ho lavorato perché infatti tu non hai svolto tutta quanta la tua attività in Italia cioè tu hai girato il mondo no? Sì, beh, ho fatto diversi progetti sia in Africa che in America Latina e quasi tutti riguardavano sia le energie rinnovabili sia l'agroecologia e in particolare l'uso degli alberi sia per ricostituire le foreste ma anche per creare luoghi migliori dove fare agricoltura ecologica le mie prime attività sono state di volontariato in Italia in particolare con il WWF abbiamo fatto diversi progetti per la conservazione della biodiversità e poi a un certo punto ho utilizzato questa esperienza in altri luoghi come appunto in Africa in particolare nel Burkina Faso in Algeria, in Tunisia nel Sahara Occidentale e anche in America Latina tra cui l'isola di Cuba A Cuba, bellissimo clima spettacolare clima spettacolare però è anche uno dei luoghi del pianeta dove i cambiamenti climatici stanno facendo più danni proprio perché in zona tropicale e gli uragani lì diventano molto molto diciamo distruttivi tant'è che il mio lavoro lì è stato soprattutto quello di mettere in campo azioni per contrastare e i cambiamenti climatici come ti sei rapportato con queste come hai fatto queste operazioni di contrasto come hai agito allora lì abbiamo stiamo lavorando soprattutto sull'agroecologia e sulla piantumazione di alberi quindi creazione di vivai forestali e poi campagne e progetti di riforestazione abbiamo lavorato anche sull'uso delle energie rinnovabili in agricoltura e abbiamo fatto poi quello che i cubani ormai fanno da decenni che sono gli orti urbani loro hanno tutta una rete di orti urbani che serve appunto per produrre cibo in maniera ecologica proprio in città la ricetta per combattere i cambiamenti climatici energie rinnovabili riforestazione e io aggiungerei anche una bella economia circolare insomma esatto e dieta vegetariana se non vegana perché uno dei massimi impatti che abbiamo sull'ambiente è purtroppo l'allevamento quindi una volta che noi mangiamo meno carne o non la mangiamo per niente usiamo le energie rinnovabili e risparmiamo energia e materia e produciamo in maniera ecologica tutto quello che ci serve per vivere il gioco è fatto basta poi piantare alberi quindi ecco questo sono tra le dieci azioni da fare per combattere i cambiamenti climatici appunto tra queste dieci oltre appunto a mangiare vegetariano usare energie rinnovabili c'è piantare alberi certamente bisogna prima difendere le foreste già esistenti infatti il nostro progetto di riforestazione parte dal principio che l'esistente va difeso e non è che bisogna piantare perché uno taglia gli alberi quindi prima di tutto bisogna salvare quello che c'è quindi non tagliare gli alberi in città o deforestare le foreste naturali che esistono e poi il resto appunto va piantato per aumentare la quantità di alberi per compensare quelli che vengono tagliati mi piacerebbe parlare delle cose belle che fai perché in questo programma ne vediamo tante di cose che comunque ci appesantiscono diciamo così avere l'opportunità di parlare con te di descrivere quello che fai che è un lavoro bellissimo mi concentrerei sulle cose belle che fai anche per farle conoscere insomma alle persone che ci stanno seguendo perché tu oltre ad essere stato a Cuba per esempio sei stato anche in Africa e in Africa hai fatto tante cose si facciamo vedere anche qualche foto nel frattempo che mi hai mandato andiamo no intanto il progetto che è quello di cui ti occupi tu e cioè riforestiamo riforestiamo che è la cosa che è la cosa si è una campagna di volontariato una campagna di volontariato per creare una rete di cittadini che coltiva gli alberi e poi li mette a dimora per realizzare delle foreste foreste sia urbane sia fuori dai paesi eh fuori dai paesi ma le foreste urbane sono le cose sono importantissime anche per la salubrità della insomma no della vita in città no sì beh appunto noi stiamo cercando di realizzare delle foreste urbane proprio perché intanto in città avere degli alberi riduce le isole di calore di sinquina ma soprattutto proprio in città dove i comuni tagliano più spesso gli alberi e anche dove c'è un maggiore costo ambientale nel mantenere gli alberi quindi le foreste sono le foreste urbane sono lo strumento migliore appunto per sia combattere il clima che sta cambiando e anche per riqualificare l'ambiente urbano assolutamente sì hai ragione parliamo di quelle cose del tuo lavoro in Africa questa ragazza è una delle sminatrici della squadra SWAT che è una squadra appunto di ragazze sarawi che sta partecipando al progetto un albero per ogni mina un progetto che stiamo facendo nel Sara occidentale dove purtroppo ci sono nove milioni di mine e il nostro progetto è quello di aiutare queste squadre di sminatrici sono giovani donne che appunto stanno facendo dei corsi per eliminare le minie dal deserto e praticamente per ogni mina che queste ragazze elevano andiamo a piantare un albero così le aree dove ci saranno gli alberi sono aree sicure ed è un progetto molto bello che appunto ha due scopi quello di rinverdire il Sara e dell'altra parte assicurare alla popolazione locale di poter vivere senza problemi senza appunto avere incidenti con le mine poi c'è stata c'è stata una guerra per molti anni questo signore che vedete che sta piantando uno dei nostri alberi è stato prima un soldato e dopo la guerra si è messo a fare lo sminatore ed è aderito subito al nostro progetto perché appunto l'ambiente dove lui vive è appunto il deserto ed è consapevole che piantare gli alberi aumenta la qualità della vita delle popolazioni locali oltre a ricreare appunto diciamo un ambiente naturale ma si perché poi tu ti sei occupato proprio della fascia sotto il deserto del Sahara giusto che c'è proprio questa muraglia verde tu partecipa alla costruzione di questa muraglia verde ecco sì io sì sono specializzato in particolare in zone aride quindi il Sahara e il Sahel ho lavorato prima in Burkina Faso in un progetto appunto di fattorie agroecologiche dove piantavamo gli alberi per assicurare anche biomassa per poter migliorare il suolo e negli ultimi anni si sta portando avanti un progetto invece in Senegal oltre a questo progetto nel Sahara Occidentale quindi sono due progetti nei quali sei attivo proprio in questo momento no? sì in questo momento abbiamo tre progetti in Africa due nel Sahara Occidentale e uno in Senegal dell'agroecologia che è pensata non tanto come vengono come ne parlavamo l'altro giorno non tanto come le monoculture delle multinazionali che arrivano in Africa mi dicevi che riescono a fare di tutto ma proprio pensata per sfumare la popolazione del luogo esatto poi in realtà è una tecnica che andrebbe usata anche in Italia l'agroecologia praticamente è la realizzazione di un ecosistema che ti permette di produrre alimenti agricoli in maniera completamente ecologica e una delle basi dell'agroecologia è appunto piantare alberi per esempio nel deserto facciamo una muraglia intorno alle fattorie fatta di alberi alberi autoctoni del deserto del Sahel e quindi questa muraglia di alberi protegge appunto le coltivazioni e rende più fertile i terreni no? è certo perché l'idea è di ricreare degli ecosistemi che siano completamente indipendenti e gli alberi sono una parte fondamentale di questi ecosistemi perché con le loro foglie i loro rami arricchiscono il suolo e tra le altre cose aumentano anche la quantità di acqua che rimane nel suolo stesso addirittura ci sono degli studi che ci fanno vedere che le foreste nei deserti fanno in maniera che la pioggia penetra nell'entroterra per molte migliaia di chilometri proprio perché le foreste hanno questo effetto di portare l'acqua nelle zone aride fantastico andiamo a vedere un'altra foto perché poi tu oltre l'Africa anche adesso sei attivo anche qui in Italia no? quindi ci stai cercando di traslare è certo perché come abbiamo portato l'esperienza italiana all'estero esatto diciamo l'esperienza cerchiamo di diffonderla il più possibile sia in Italia che appunto all'estero questa foto per esempio è un progetto che abbiamo fatto ad Amatrice dopo il terremoto per aiutare le piccole aziende agricole biologiche montane e in particolare sono dei ricinti e dei corridoi ecologici per salvare appunto le coltivazioni da diciamo dagli animali selvatici e salvare gli animali selvatici dall'intervento umano quindi abbiamo salvato come si dice capra e cavoli fantastico e qua invece state facendo in questo caso era patate e cinghiali vabbè dettagli invece in quest'altra foto queste invece sono le foto dei vivai forestali questa è una foto dei volontari che stanno costruendo dei vivai forestali per coltivare a partire dai semi gli alberi e gli arbusti per poi andarle a piantare appunto per realizzare le foreste urbane o anche per recuperare le aree che sono state percorse dagli incendi quanto ti faccio una domanda da ignorante perché io comunque io amo la natura però non praticamente non non conosco tempi non conosco sono abbastanza ignorante in materia quindi lo ammetto abbastanza nel senso tranquillamente perché è così quindi però l'ignoranza si può sempre si può sempre colmare ecco quindi con la conoscenza quindi ti chiedo così quanto passa dal seme a quando un albero è pronto a livello di età di grandezza per poter essere piantato poi in un nel posto dove poi starà allora noi usiamo una tecnica che è proprio una tecnica forestale quindi le piante le piantiamo quando ancora sono piccole quindi dopo un anno o dopo due anni noi le andiamo direttamente a piantare poi cresceranno nel luogo di dimora quindi non aspettiamo molti anni anche perché facciamo in maniera che le piante fin da piccole si abituano all'ambiente dove poi viveranno tutta la vita se invece tu pianti alberi già grandi c'è un forte rischio che queste piante si ammalano perché non sono abituate al nuovo sito di dimora se una pianta vive in vivaio per cinque anni poi quando tu la porti nel posto dove dovrà vivere per sempre quella ormai è abituata a quel tipo d'ambiente del vivaio invece noi le piantiamo subito quindi dopo un anno massimo due anni effettivamente il tuo ragionamento non fa una piega e quindi questa è sembra un'altra foto del vivaio no? sì questo è proprio un vivaio forestale li realizziamo così con del legname e del telo ombreggiante perché praticamente riproduciamo quello che una piccola pianta un piccolo albero vive nella foresta quando i semi cadono dall'albero madre il piccolo albero è abituato a crescere in queste condizioni quindi in ombra è a riparo dalla pioggia forte o dalla grandine quindi noi con questi vivai forestali non facciamo altro che praticamente riprodurre le condizioni che ci sono nella foresta e quindi sono quelle ottimali anche in funzione proprio di far abituare l'albero a vivere in natura ritorniamo 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 un attimino fra di noi senza altre fotografie esatto esatto ritorniamo un attimino a noi perché io abbiamo visto le immagini di quello che hai fatto in Africa di quello che stai facendo di quello che stai facendo sia in Africa che quello che stai anche facendo qui con altri progetti che poi saranno anche insomma c'è tutto un divenire ora raccontiamo poi praticamente quanti alberi hai piantato nel corso di questi anni con questi progetti allora in tutto sicuramente siamo oltre i 200.000 alberi di cui penso 50.000 in Italia e 150.000 nelle altre parti del mondo in particolare in Africa come alberi che direttamente abbiamo piantato come progetto per quanto riguarda invece diciamo al totale dei progetti insomma ormai siamo intorno di 300-400.000 alberi compresi quelli che sono stati piantati grazie ai nostri progetti anche se non li abbiamo piantati direttamente noi quindi magari che ne so partner a cui abbiamo insegnato a piantare gli alberi o villaggi come appunto nel Sahel dove appunto hanno piantato gli alberi dopo i nostri corsi di formazione ecco perché come si dice qual era quel detto vai a pescare per una persona e lo sfami per un giorno gli insegni a pescare e l'avrai sfamato per tutta la vita quindi c'è anche questo non è soltanto il piantare l'albero è proprio tutta un'opera di trasmettere una cultura proprio del rispetto della natura nella di ricostituire nuovi ecosistemi autoctoni sempre perché comunque correggimi se sbaglio tu pianti la tua associazione pianti degli alberi che comunque sia sono autoctoni cioè in Africa avete piantato alberi africani no? è certo perché altrimenti non sopravviverebbero a quelle a quegli ambienti aridi ma la stessa cosa facciamo in Italia diciamo che noi seguiamo le leggi della natura quindi per creare un sistema sostenibile devi prima studiare l'ecosistema che esiste nel luogo dove vuoi lavorare e poi devi puntare molto sulla formazione infatti anche qua in Italia proprio questa settimana concluderemo il corso di formazione per la rete Riforestiamo Roma a cui hanno partecipato un'ottantina di persone e probabilmente dal 2 maggio inizieremo invece a coltivare gli alberi quindi prima di tutto la formazione la ricerca scientifica perché soprattutto sui cambiamenti climatici non si può scherzare infatti la nostra iniziativa è anche in qualche maniera in antitesi a tutte quelle campagne di greenwashing cioè di appunto di immagine verde che purtroppo molti fanno quindi intanto ci siamo posti sempre obiettivi molto grandi per esempio a Roma ci siamo posti l'obiettivo di 10 milioni di alberi perché di meno non servirebbe a nulla praticamente quindi non è che dobbiamo fare questo tanto come hobby altrimenti sarebbe giardinaggio noi invece vogliamo puntare a obiettivi grandi perché il problema dei cambiamenti climatici è un problema grande è un problema immenso è un problema immenso noi siamo nati proprio come greenstaff.blog per affrontare questi temi e cercare di divulgarli perché diciamo che ci sono ancora persone che pensano che il cambiamento climatico sia il cambio di nome che siamo passati dal temporale a bomba d'acqua cioè questo un pochettino purtroppo ancora molte persone pensano che sia questo e purtroppo ancora purtroppo molti esponenti soprattutto mediatici faccio anche direttori di giornali senza fare nomi che pensano che comunque sia non conoscono nemmeno la differenza tra clima e meteo insomma e si permettono di fare delle esternazioni per ridicolizzare il cambiamento climatico senza nessuna base scientifica secondo me l'unico effetto che trovano è quello di ridicolizzare loro stessi fondamentalmente però però parlando di greenwashing purtroppo purtroppo se ne sente tanto purtroppo se ne vede tanto ma se ne vede tanto anche di aziende che non c'entrano nulla poi con con queste situazioni e quindi è bene è bene cercare di puntare il dito contro il greenwashing perché è marketing è marketing truffaldino è sfruttare è sfruttare un problema per il proprio tornaconto e questo è non solo meschino ma è anche è anche appunto truffare i propri clienti stessi insomma credo io poi io penso che un'azienda dovrebbe costruire un rapporto limpido con i propri consumatori però purtroppo non è non è sempre così non è sempre così anche perché poi cambiando un attimino il discorso Roberto ritornando al discorso degli alberi del numero di alberi perché poi se ci addentriamo nell'ambito del greenwashing penso che anche tu ne hai tante da dire no? quindi ritorniamo un attimino agli alberi poi magari se vuoi dire qualcosa sul greenwashing hai carta bianca e no ti volevo dire 10 milioni di alberi per Roma Roma che popolazione ha? quante persone abitano a Roma io in questo momento ho un lapsus circa 3-4 allora diciamo che se comprendiamo l'area metropolitana stiamo intorno ai 4 milioni di persone io leggevo di un report diversi mesi fa che analizzava il fatto che per compensare le emissioni di una famiglia media italiana ci volevano circa 160-200 alberi in media per ogni famiglia quindi facendo un rapido calcolo come siamo messi quindi su ipotizzazione non si può tanto fare perché le famiglie poi sono non sono di un numero predefinito però tu pensi che siano un 10 milioni siano sufficienti o è comunque un primo step o è un segnale che comunque sia bisogna bisogna sicuramente darlo però insomma pensi allora noi abbiamo fatto abbiamo fatto dei calcoli sia rispetto alle emissioni della popolazione dell'area metropolitana di Roma ma anche rispetto alle aree verdi a disposizione perché appunto intanto la nostra idea è quella di creare delle foreste urbane quindi non alberi lungo i viali diciamo quello è un'altra cosa noi vogliamo utilizzare le aree verdi che attualmente magari non sono utilizzate e quindi abbiamo fatto una mappatura di tutte le aree verdi di Roma non utilizzate e che possono essere forestate quindi non tutte le aree verdi ma solo quelle più idonee e quindi tra abbiamo fatto diciamo un equilibrio tra quello che servirebbe e quello che effettivamente si potrebbe fare logicamente 10 milioni di alberi per solo l'area metropolitana di Roma è anche comunque un obiettivo grande assolutamente no no ci mancherebbe altro io non volevo cercare non so se magari mi sono espresso male no 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 beh ho capito ma quello che volevo introdurre è il fatto che per esempio la regione Lazio per tutto il Lazio ha l'obiettivo di 6 milioni di alberi quindi il nostro obiettivo diciamo è un calcolo che effettivamente potrebbe dare qualche risultato fare meno serve a ben poco soprattutto se nel frattempo si autorizzano di sboscamenti come per esempio quello del Monte Terminillo che tanto ci preoccupa o come quello che succede tutti i giorni nei vari comuni d'Italia dove vengono capitozzati vengono abbattuti alberi e quindi non solo non andrebbero abbattuti ma in più andrebbero messi a dimora milioni di alberi quindi chi parla di meno alberi sta facendo appunto del greenwashing non bisogna darsi degli obiettivi molto forti perché appunto come dicevi tu il problema dei cambiamenti climatici è un problema reale molto grande addirittura si prevede che fra 50 anni in Italia se continua questo trend non potremmo fare più agricoltura perché i cambiamenti climatici porteranno a un cambiamento del clima che renderà impossibile l'agricoltura come noi oggi la conosciamo e beh poi ci sono tante di conseguenze del cambiamento climatico a parte a parte ovviamente la possibilità di la difficoltà che uno potrebbe incontrare dell'agricoltura ma poi l'inalzamento dei mari ci sono delle conseguenze che sono allucinanti tutto per la CO2 che può essere risolta come piantando altro troviamo una contraddizione tra quello che si dice e quello che si fa nella politica in questo momento si dice di voler fare tante cose emissioni ci sono proclami di quelli in pompa magna della serie emissioni zero entro il 2030 il 2050 eccetera eccetera però poi se tu vai a guardare i fatti c'è qualcosa che non quadra anche a livello governativo a parte il cambiamento dell'ultimo di questo governo ci preoccupa molto perché hanno dichiarato di voler fare un ministero e l'hanno chiamato di transizione ecologica e le prime cose che hanno fatto le prime azioni non sono state di certo ecologiche sia quello che riguarda l'autorizzazione dei nuovi pozzi petroliferi ma anche appunto il piano di recupero che stanno presentando in questi giorni minimamente parla né di ricerca né di energie rinnovabili tant'è che sia le associazioni che si occupano di protezione della natura sia quelli che si occupano d'ambiente hanno cominciato a fare delle proteste ce n'è stata proprio anche una oggi davanti al Parlamento perché altro che transizione ecologica stiamo facendo una transizione anti-ecologica e come diciamo non si non si può scherzare su questo argomento questo è veramente ci stiamo tagliando le gambe io punto molto sull'agricoltura perché l'agricoltura è la base della vita con l'agricoltura produciamo cibo produciamo tessuti produciamo medicine e quindi è proprio la base della nostra sostenibilità e la base della nostra esistenza quindi se non mettiamo subito in azione tutti i progetti che riguardano appunto quei grandi quei quattro grandi temi che appunto sono le energie rinnovabili la riforestazione l'agricoltura sostenibile e l'alimentazione sostenibile noi veramente andiamo verso un futuro che sarà invivibile quindi il greenwashing dovrebbe essere addirittura un reato secondo me lo vediamo anche le grandi multinazionali del petrolio che quando poi fanno la pubblicità in televisione fanno vedere sempre il generatore eolico fanno vedere il pannellino solare quando poi sappiamo che il 99,9% dei loro affari proviene ancora dal petrolio quindi è veramente una situazione dove si vuole nascondere al cittadino con dei video con delle foto con immagine ecologica quello che invece è rimasto inalterato cioè noi non stiamo facendo ancora nulla per i cambiamenti climatici tant'è che uno dei nostri slogan è se aspettiamo i nostri governi sarà troppo tardi se lo facciamo da soli sarà troppo poco quindi questo è importante che i cittadini lo sappiano e che cominciamo come stiamo facendo col progetto riforestiamo l'Italia a unirci come rete di cittadini e non delegare a nessuno cioè non dobbiamo fare del giardinaggio qui stiamo mettendo le basi per un futuro sostenibile quindi qualsiasi azione va fatta seriamente non è possibile farla in maniera molto molto superficiale come purtroppo ancora oggi avviene perché poi lasciando questo argomento per un attimo cioè io faccio anche un altro tipo di ragionamento prendendola da un'altra strada e comunque arrivo sempre alla stessa conclusione mi spiego subito è una tendenza la stanno trasformando in una moda quindi il cambiamento climatico la transizione è un po' però fondamentalmente magari non in Italia ma in altre parti del mondo si sta cominciando a fare qualcosa di serio a livello di investimenti che devono comunque ancora dare i loro frutti ovviamente parlo per esempio degli Stati Uniti dove da poco si è insediato da qualche mese si è insediato Biden che però già ha cambiato totalmente la politica degli Stati Uniti riguardo alla transizione ecologica addirittura leggevo per esempio un articolo una decina di giorni fa dove hanno proprio l'obiettivo di dimezzare il costo del kilowatt proveniente dall'eolico dal solare scusa e quindi questo ti fa capire cosa è un approccio aggressivo è un approccio all'attacco diciamo così per fare cosa per anticipare tutto il resto del mondo nella transizione ecologica ottenendo due risultati uno eliminando le emissioni di fatto e due di ritrovarsi comunque in una posizione di vantaggio a livello economico tecnologico di leadership e di quant'altro rispetto a tutto il resto del mondo a livello geopolitico sto parlando proprio a livello prettamente geopolitico ed economico facendo questo ragionamento si arriva comunque lì è inutile fare del greenwashing è ora di mettersi su insomma di sbracciarsi le maniche e fare veramente qualcosa di serio e concreto perché si rischia anche a parte il grandissimo problema del del cambiamento climatico si rischia anche poi di trovarsi indietro rispetto a tutta una serie di tecnologie e situazioni che si stanno venendo a creare e quindi insomma sicuramente diciamo per l'Italia soprattutto l'investimento sulle energie rinnovabili sulla sostenibilità è vincente perché noi non abbiamo risorse naturali enormi no quindi quale altro investimento potremmo fare se non la ricerca e in particolare la ricerca sulle energie rinnovabili o comunque in generale sull'ecologia e invece questa svolta politica ancora non c'è stata noi c'è stato un periodo in cui era partito il progetto di diffusione del fotovoltaico e di altre fonti rinnovabili attraverso il conto energia e come questo progetto ha avuto dei risultati tutti quante i poteri forti del petrolio hanno cercato di bloccare questo progetto eppure per sette anni noi come italiani siamo stati il mercato mondiale più in crescita riguardo le rinnovabili poi quando appunto sono stati raggiunti discreti risultati questa cosa ha impaurito le grandi multinazionali del petrolio e dell'energia elettrica bloccando di fatto questo progetto quindi sicuramente come dici tu è molto vantaggioso per l'America ma l'America deve recuperare tanto perché comunque è uno dei paesi che inquina più al mondo quindi intanto dovrà dimostrare che questi progetti sono reali però loro certamente però appunto sono invece i paesi come l'Italia a cui converrebbe di più la strategia che tu hai detto cioè fare in maniera di essere i primi a sviluppare tutta una serie di tecnologie che riguardano la sostenibilità anche perché purtroppo il Mediterraneo rispetto alla media mondiale ha avuto un aumento medio della temperatura che è di tre volte maggiore quindi sicuramente nel Mediterraneo avremo la maggior parte dei problemi tant'è che anche uno degli studi che è uscito ultimamente dice che l'area europea è quello che maggiormente avrà danni dai cambiamenti climatici quindi dovremmo come Europa e in particolare come Italia che ha pochissime risorse naturali se non quelle appunto delle bellezze naturali investite di più proprio su questo tema purtroppo questa svolta non c'è stata non c'è stata neanche appunto con il recovery plan come d'altronde oggi ha pubblicato il WWF la LIPU e tutti anche i movimenti ambientalisti che stanno nascendo anche quelli che nascono appunto dal movimento di Greta Thunberg che stanno facendo vedere come purtroppo la svolta di questo governo è stato quello di anzi è proprio una svolta di tipo conservazionistico puntano ancora sul metano cioè puntare sul metano è veramente un suicidio sì a parte un assist alle grandi multinazionali ma è anche proprio un suicidio economico perché diventiamo del tutto dipendenti o dalla Russia o dalla Libia e lì poi ci sono tutti i problemi che riguardano i diritti umani in Libia quanti soldi spendiamo nella produzione di armi e purtroppo l'indirizzo politico è quello armi petrolio e anche una sorta di inciviltà rispetto a tutti i danni che noi proviamo in Africa ma anche in altri parti del mondo perché ricordiamo che le multinazionali italiane disboscano anche in Brasile disboscano in Camerun disboscano in Senegal disboscano in Uganda e fanno danni con i pozzi petrolifere in Nigeria e ormai tutti quanti i fiumi sono completamente inquinati quindi la nostra politica non è certo sostenibile e vedremo se quella americana sarà sostenibile per ora è facile perché dopo Trump qualsiasi cosa fai meglio di prima quindi come si dice si gioca fatti sicuramente e migliorerà però il miglioramento deve essere effettivamente fattivo in realtà pure Obama aveva detto la stessa cosa cioè se noi investiamo sulle rinnovabili ci mettiamo come leader sul mercato delle tecnologie appunto che riguardano e non è solo le energie rinnovabili e badiamo perché è anche ricerca sull'agroecologia sulla produzione sostenibile di beni sull'economia circolare anche se io insomma sono un po' critico su questo termine perché nasconde il fatto che in realtà in natura niente può essere circolare deve essere sostenibile e sicuramente il riutilizzo dei materiali può essere in parte una soluzione ma potrebbe essere anche un problema perché pensare solo al riciclo e non al riutilizzo diventa praticamente anche questo un green washing quindi bisogna stare molto attenti perché il premio in palio è la sopravvivenza e diciamo non pensiamo ai film catastrofici no? tipo quelli di uragani spaventosi ok basta che aumenta di poco la temperatura nel Mediterraneo e noi l'agricoltura che facciamo ora non la potremmo fare più fino ad arrivare a rischiare di diventare veramente un paese come il Sahel cioè un paese che ha una media di 45 gradi di temperatura il che significa 20 d'estate anche nel nord Italia e 55 gradi d'estate cioè veramente invivibile è quello che io vivo quando vado nel Sahel o nel Sahara dove veramente lì si fa agricoltura di sussistenza ma proprio per far sopravvivere le popolazioni quindi immaginate produzioni come l'olio il vino il grano le mele non saranno più possibili se i cambiamenti climatici continuano e purtroppo ancora anche il mondo dell'agricoltura non ha capito questa cosa ancora va contro tutte le azioni che invece andrebbero messe in campo perché c'è troppo si dà troppo peso ai numeri ai costi ai ricavi e quindi purtroppo ci si basa un po' troppo sui numeri e non alle cose veramente importanti Roberto io ti lascerei concludere un attimino con insomma quello che vuoi dire nel frattempo io metto qui insomma l'immagine un'immagine molto importante perché chiunque ci sta seguendo noi comunque stiamo registrando anche questa clip quindi stiamo registrando dicevo questa clip scusate io non riesco più a mettere il silenzioso a questo telefono dall'ultimo aggiornamento e chiunque ci sta seguendo o che vede comunque sia questa clip registrata può fare una scelta sicuramente sicuramente consapevole una scelta dove uno sa dove va a finire il proprio 5 per 1000 ad una buona causa la causa qual è? è quella di piantare alberi è quella di piantare tanti alberi autoctoni che non vanno ad inquinare insomma geneticamente il patrimonio insomma autoctono delle varie zone del pianeta che sono ovviamente tutte quante diverse per far cosa ogni albero è di tutti ogni albero genera ossigeno per tutti e quindi io credo sia donare il 5 per 1000 a Reseta Onlus sia veramente un un atto di di generosità verso il nostro pianeta stesso ti ringrazio Gabriele sì io mi invito tutti quanti noi siamo una piccola realtà ma stiamo cercando appunto di creare una rete a livello nazionale attualmente tutto il lavoro che abbiamo fatto di formazione i vari webinar è portato avanti solo da volontari però logicamente anche quel minimo di strumentazione che ci serve la dobbiamo acquistare quindi il 5 per 1000 sicuramente ci aiuta soprattutto poi quando andiamo a realizzare progetti come quello appunto di un albero per ogni mina che viene fatto uno dei posti dimenticati da tutti appunto il Sara Occidentale dove purtroppo ci sono 9 milioni di mine quasi tutte di produzione italiana che ancora uccidono e ancora feriscono diversi anche bambini purtroppo continuamente riceviamo questo tipo di notizie tra altre cose noi lavoriamo lì perché molti anni fa quasi una ventina di anni fa abbiamo realizzato un ospedale con medici senza frontiere proprio per curare i feriti delle mine e purtroppo la maggior parte dei feriti dalle mine sono bambini e anziani perché sono nomadi che vivono nel deserto e purtroppo molte di queste mine come d'altronde ha scritto pure Gino Strada nel libro Pappagalli Verdi sono proprio degli oggetti che tutto sembrano meno che bombe infatti alcuni di queste mine sono appunto i famosi pappagalli verdi sono mine diciamo di un materiale tipo gomma sono di colore verde hanno una forma particolare che in realtà serve solo per essere disperso meglio quando vengono lanciate da aeroplani e sembrano piccoli giocattoli quindi spesso i bambini li prendono li portano nella loro tenda in mezzo alla famiglia e poi queste esplodano e quindi noi con questi finanziamenti stiamo cercando di supportare in particolare quella squadra di giovani donne Sarawi che appunto oltre a sminare stanno cercando di fare formazione e spiegare appunto alla popolazione che vive in quei deserti che purtroppo contengono 9 milioni di mine come agire nel caso se ne trova uno proprio per evitare incidenti e come dicevo prima per ogni mina che leviamo andiamo a piantare un albero anche per dire che quel posto è sicuro che in quel posto si può vivere invece in Italia quasi tutto il lavoro è fatto da volontari veramente il nostro progetto è fatto per costare poco c'è bisogno solo di molta pazienza perché le foreste non si creano dall'oggi al domani quindi bisogna partecipare ai nostri corsi che ultimamente stiamo facendo come webinar e quindi ecco l'unici soldi che spendiamo è appunto nelle piattaforme di comunicazione per appunto fare corsi anche alle persone che non vivono nel nostro terdoli a proposito di questo Roberto abbiamo una domanda da Elisabetta su Youtube che ci chiede se organizzerai Riforestiamo anche a Milano ben volentieri già qualche cittadino di Milano ha partecipato a dei nostri webinar quindi sicuramente Riforestiamo Milano potrebbe essere il prossimo progetto adesso stiamo appunto concludendo il percorso formativo il primo percorso formativo a Roma e quindi benvenga se ci sono dei volontari che ci vogliono dare una mano faremo partire anche Riforestiamo Milano allora ragazzi siamo arrivati al termine della prima parte ringraziamo Roberto ringraziamo la Reseda Hollus per tutto quello che fa in Italia e nel mondo doniamo il nostro 5x1000 a Reseda Hollus nel frattempo colgo l'occasione mentre che siamo qui a chiedervi qualcosa da fare insomma e di iscrivervi anche al canale Elisabetta ci dice che sta partecipando infatti al tuo corso attuale che sta per finire perfetto allora iscrivetevi al canale grazie Gabriele e grazie a tutti di Cristaf e alla prossima grazie a te Roberto grazie a te mi raccomando donate il vostro 5x1000 a Reseda Hollus perché piantano alberi